In attesa che arrivi una Ravenna da tutto il mondo, i 30 giovani musicisti che saranno impegnati per il grande concerto di Natale Ravenna-Betlemme in programma lunedì 9 dicembre nella Basilica di San Francesco con un'anteprima finale 1000 San Marino e altre tappe a Rieti e Gerusalemme, il maestro Paolo Olmi ha iniziato oggi le prove con una parte di 120 bambini provenienti dalla scuola Mordani, dalla San Vincenzo e dalla San Pierdamiano e dalla scuola Medio del Sacro Cuore di Lugo che nella serata ravennata interpreteranno alcuni canti di Natale. interpreteranno assieme a Rieti e Gerusalemme in programma lunedì . Silent night, holy night Holy night, holy night Round the birds in mother and child Holy night, holy night Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Come avvenuto negli scorsi anni, la cooperativa Emilia Romagna Concerti ha invitato al concerto di Ravenna i bambini stranieri residenti in città e le loro famiglie. Federico Lega per Ravenna Web TV Come avvenuto negli scorsi